Serie B Win, tutti i colori della passione. Serie B Win che allo stadio Atleti Azzurri d'Italia vede nella tredicesima giornata uno scontro che ha tutta l'aria di essere uno spartiacque nei campionati di Albino Leffe e Sassuolo. 12 punti per i bergamaschi padroni di casa allenati da Mondonico, 12 come quelli della formazione di Gregucci. Per entrambe tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte sin qui. Dirige Gennaro Palazzino della sezione di Ciampino, assistenti Ciancaleoni e Zonno. Si comincia il piccolo trotto, tanto che la prima azione degna di nota arriva solo al nono con uno scambio Masucci-Noselli, il tiro di quest'ultimo. Tomasic mette in angolo. Sviluppi del corner successivo, Catellani si invola sulla sinistra ma sul suo tiro cross, Tomasic non si fa sorprendere. 17 troiano ha spazio per crossare da sinistra, Catellani impatta male, Noselli rimette in mezzo, il gioco sembra fermo ma Masucci non è cattivo, il pallone resta lì e allora la difesa riesce a liberare. 20esimo, Foglio dall'altra parte cerca l'azione personale, ne salta tre ma Bressan copre bene il suo palo. 21esimo, gol annullato al Sassuolo. Ancora Catellani sulla sinistra, letteralmente scatenato, pallone in mezzo per Noselli che prende il tempo alla difesa. Ma rete annullata per fuorigioco, riusciamo a capire il tutto dal replay largo con Noselli che è effettivamente in posizione irregolare. 30esimo, ancora Sassuolo, cross dalla sinistra per Masucci che non ci arriva, pallone a Noselli che spara addosso a Tomasic in uscita. Clamorosa questa azione per il Sassuolo, il pallone poi si perde. 32esimo, la corsia mancina ospite è ancora pericolosa. Velo di Catellani per Masucci, pallone di ritorno, tentativo vanno di Catellani ma Sassuolo che spinge sempre di più. Primo tempo che termina qui e chi pensa che la Binolette sia destinato alla sconfitta è subito smentito. 52esimo, Foglio sulla sinistra va in serpentina. Difesa del Sassuolo scoperta, il pallone arriva casualmente a Momentec che salta. Bressan in uscita e firma l'1-0 facile, facile, facile per i padroni di casa. Clamoroso a Bergamo, al Binolette 1, Sassuolo 0, incredibile la serpentina di Foglio sulla sinistra, incredibile lo svarione della difesa degli ospiti. Passano 30 secondi e l'azione sembra la fotocopia della precedente. Stavolta però è Momentea a dare a Foglio, ruoli invertiti, medesimo risultato. Al Binolette 2, Sassuolo 0, clamoroso blackout degli ospiti che dopo aver dominato in lungo e largo per tutto il primo tempo si trovano sotto per 2-0 dopo due azioni identiche a distanza di 30 secondi una dall'altra. Andiamo a rivedere il gol di Foglio con il mancino, tutto facile per l'Albinolette in questa ripresa. L'Albinolette ora addormenta la partita, quando accelera però fa ancora male. 72esimo, altro buco sulla destra ospite, altro inserimento di Foglio nello spazio, altro gol con la difesa tagliata fuori. E ancora Valerio Foglio a superare Bressan con il tocco sotto, al Binolette 3, Sassuolo 0. Standing ovation per il numero 11 dei Bergamaschi che viene poi richiamato in panchina da Emiliano Mondonico. Che partita per Foglio, due gol, un assist giù il cappello per il man of the match di oggi. 82esimo, segni di vita del Sassuolo con una punizione di bianco per la testa di Martinetti. Tomasic non si fa sorprendere. Si chiude così la gara? No, 92esimo in pieno recupero, botta d'orgoglio del Sassuolo con Quatrini che riceve palla a sua sinistra, destro a giro a cercare il secondo palo. Pallone sotto l'incrocio e gol della bandiera che non rende la sconfitta, meno Amara. Al Binolette 3, Sassuolo 1, partita classica dai due volti, primo tempo di marca ospite con gli uomini di Gregucci, incapaci di capitalizzare quanto di buono messo in mostra. Seconda frazione, tutta di marca Mergamasca con un super foglio. Martedì si torna in campo.